Fermarsi in un bar tabacchi per prendere le sigarette è l'uscita a scoprire che una donna sta rovistando nella tua auto parcheggiata a poco distante. Ma quando riesci ad allontanarla e salire sulla vettura, qualcuno si lancia letteralmente sulla macchina appena partita, riesce a bloccarti, aprire la portiera, scaventarti fuori e prenderti a calci e pugni per prenderti il portafoglio. Il racconto shock è quello di un 25enne romeno che ha denunciato tutto alla polizia, consentendo agli agenti delle volanti di individuare i rapinatori. È successo sabato sera in via Bixio a Treviso. La donna che rovistava nell'auto è una trentenne di capoverde, il complice, l'aggressore violento, un quarantenne padovano pluripregiudicato. Dopo aver pestato il ragazzo, i due sono fuggiti a bordo di una Fiat Multipla. La polizia ha iniziato la loro ricerca su tutto il territorio con l'ausilio degli operatori della sala operativa che nel frattempo visionavano tutte le telecamere comunali di videosorveglianza. Dopo poche ore, la stradale di Treviso ha intercettato l'auto e l'ha inseguita e bloccata. Altra fuga a piedi dei due, finalmente arrestati in un locale dove si erano nascosti. Per i 25enne numerose scoriazioni e lo shock di un'esperienza difficile da dimenticare.